Adesso non chiedo altro che entri da quella porta. È Greta. Greta. Ciao, vero? Alma è a casa? No, perché? È che ieri, quando hai chiamato, ti ho mentito. Io e Alma siamo andati a una festa. E ora dov'è Alma? Non lo so, la sto cercando qui da tre ore. Non la trovo da nessuna parte. Se n'è andata con qualcuno? Non lo so, è che non so più che fare. Sono preoccupata. Torna a casa. Va bene. Dov'è Alma? La chiesa a la gloria. Oh, children. Lift up your voice. Lift up your voice. ida a la gloria. Grazie a tutti.